un bel ritrovato a tutti è passato poco più di un mese e mezzo dall'evento del carnevale sembra oramai lontanissimo ma soprattutto un evento eccezionalmente drammatico come la pandemia e la Covid-19 ci ha sconvolto e ha spostato la nostra attenzione su temi più importanti come il contenimento del contagio, su come rendere efficaci le azioni per andare incontro ai più bisognevoli, su come eventualmente pensare a un futuro a breve e a medio termine. Un po' è come se ci fosse alterata la percezione del tempo, è come se si fosse aperta delle riflessioni nuove sui concetti di priorità e di urgenze. Come consiglio di amministrazione avevamo preso l'impegno di presentare i dati in una conferenza stampa di fine marzo. Un mese ci sembrava un tempo ragionevole per accogliere i dati, i racconti, le impressioni e poter confezionare un evento di rientri contazione pubblica che fosse quando più in linea possibile con uno stile di comunicazione che abbiamo scelto sin da subito, a partire dalla scelta dei luoghi e dagli attori da coinvolgere. Venute a meno queste opportunità, nonostante pensiamoci fossero i problemi, ci siano dei problemi ancora importanti da risolvere, abbiamo dovuto essere presenti, non soltanto per una trasparenza gestionale che tra l'altro ci è dovuta come ente, ma anche per la soddisfazione e il piacere di raccontarvi come i risultati sono stati raggiunti. I numeri per sé, per quanto indicativi, riescono ad essere esteridi senza un adeguato racconto ed è per questo che abbiamo riuscito di scegliere una modalità che sono una serie di video dove ascolterete come abbiamo raggiunto i risultati nei vari settori direttamente dalla voce dei responsabili. Negli ultimi settimane ho ricevuto diversi stimoli, provocazioni, a chiedere naturalmente qual è il dato più importante, sembra che fosse il dato più importante per le telefonate che ho ricevuto, naturalmente l'incasso dei biglietti. Bene, rispetto all'incasso siamo molto soddisfatti perché considerando una rivisitazione del listino e la scelta di una veletribune abbiamo raccolto poco più di 350 mila euro. L'importante è stata anche la raccolta attraverso i partner commerciali, abbiamo incrementato nei vari ambiti raggiungendo una cifra importante per noi che è di 147 mila euro. Un'altra cosa importante che vorrei dirvi per tranquillizzarvi è che è un bilancio non fatto soltanto di cavi, ma è fatto anche della voce costi. Anche qui ci siamo sforzati, abbiamo cominciato un'operazione di efficientamento della fondazione a partire appunto dal contatto diretto con i nostri fornitori per ottenere prezzi naturalmente che ci desse la possibilità di avere vantaggi per l'ente. Un esempio su tutti, posso citarvi, il biglietto dei residenti che abitualmente ci costava un euro, siamo riusciti a negoziarlo e pagarlo soltanto 10 centesimi, un piccolo passo, ma per noi molto significativo. Nei progetti tra l'altro non sono soltanto importanti i risultati e i programmi, ma come gli stessi appunto vengono scritti e vengono raggiunti. Ed è per questo che nell'ultimo mese e mezzo abbiamo investito il nostro tempo, nonostante le difficoltà legate appunto alle difficoltà di incontrarsi, nel fare una serie di incontri per accogliere i feedback più importanti da coloro che ci hanno dato una mano nell'organizzazione dell'evento e questo per individuare quelle che possono essere delle azioni di miglioramento già nella prossima edizione. Considiti di fare un'ulteriore sottolineatura, per me importante, perché rappresenta una vera e propria visione strategica dell'ente Fondazione Carnevale. Noi tutti dobbiamo pensare all'ente non come l'organizzatore dell'evento, seppur questo rappresenta il momento più importante che raccoglie la maggior parte dell'energia e degli sforzi dell'ente della Fondazione Carnevale, ma esattamente pensare, così come è citato dallo statuto appunto dell'ente, all'organizzazione che sia capace di promuovere la cultura, l'identità, i riti del nostro Carnevale, di salvaguardare la storia, le risorse artistiche, le risorse appunto culturali che ruotano intorno allo questo Carnevale. Un ente capace di poter stimolare la crescita artistica, culturale, eventualmente con dei confronti, con delle grosse formazioni e via dicendo. Detto questo, naturalmente penso che sia chiaro che uno dei nostri maggiori obiettivi sia proprio esattamente quello di poter attraverso questa, diciamo, visione un po' più ampia, più larga, provare a realizzare quello che tanti CDA in passato hanno provato e per cui si sono impegnati per l'intero mandato, che sintetizzare quel concetto di pensare al Carnevale putignano non soltanto come un evento, ma come un indotto, un'opportunità per generare economie a più livelli. Partire da ciò che è ovvio mi ha portato anche in altre esperienze professionali a non buttare mai il bambino con l'acqua sporca. Questo significa avere sempre rispetto per chi ti ha preceduto e per chi naturalmente ha già scritto un pezzettino di storia. Noi consideriamo che il nostro Carnevale è lungo 626 anni. Quindi per me è stato importante, per noi è stato importante, ripartire da quanto era stato fatto di positivo nei CDA che ci hanno preceduto e naturalmente provare a fare una rilettura di quanto è accaduto, sia in funzione di una visione che noi portavamo come CDA, come noi CDA. Ci siamo confrontati da subito sull'importante ruolo che deve avere la fondazione, di essere custode di una tradizione. Come potevamo fare questa cosa? Come potevamo raggiungere questa missione? E la risposta che ci siamo dati è stata quella di allargare il più possibile, coinvolgere i più attori possibili culturali del nostro territorio, intorno a un molto molto semplice, io sto con il Carnevale. Fare in modo che tutti e tanti si sentissero protagonisti piuttosto che spettatori. Queste idee, così come ve le sto raccontando, sono state portate sui tanti tavoli di progettazione che abbiamo fatto in fondazione a partire da settembre. E quello che abbiamo chiesto ai vari professionisti che sono diventati sempre più numerosi e naturalmente fanno parte della squadra oramai ma è stabile della fondazione Carnevale. L'unica cosa che abbiamo chiesto è quello di portare la loro esperienza e aiutarci a tradurre con le loro competenze esattamente quello che noi immaginavamo. Sono notate così l'idea del villaggio, l'idea di eliminare le transenne, l'idea di posizionare delle installazioni lungo il percorso, un esperimento a cui abbiamo ottenuto tantissimo. L'idea di un'area food in piazzale Aldomoro, dell'ospitalità di Tì nel Chiostro Comunale, di un'area Narseri in piazza 20 Settembre e potrei raccontarvi naturalmente delle tante novità che mi auguro che abbiate avuto il piacere di apprezzare. In questi tavoli di lavoro abbiamo preso con piena consapevolezza che fosse importantissimo lavorare per gruppi di lavoro con competenze specifiche, quindi abbiamo istituito il gruppo logistica e sicurezza dell'evento, un gruppo dedicato esclusivamente all'accoglienza turistica, così come naturalmente, ma una cosa apparentemente banale, un gruppo che si è dedicato alla programmazione sia dei grandi eventi che degli eventi collaterali. Naturalmente tutto questo ci ha dato delle possibilità importanti. Col primo gruppo, ad esempio, abbiamo potuto risolvere tutta una serie di soluzioni e di trovare soluzioni a problemi complessi, come l'eliminazione del transenne, come aver voluto anticipare a tutti i costi l'apertura al martino, il posizionamento dei carri. Abbiamo recuperato una vecchia idea e riportata in auge, che era di un percorso circolare. Diciamo che questi gruppi di lavoro dedicati ci hanno dato la possibilità, come vi dicevo, di poter essere un po' ancora più professionali di quando eventualmente lo si è sempre stati. La stessa cosa riguarda il gruppo per l'accoglienza turistica. Avere un gruppo dedicato ci ha dato la possibilità di poter aprire una rete importante di relazioni con i tour operator, anche stranieri. Ci ha dato la possibilità di fare delle sperimentazioni, quelle di abbinare il biglietto d'ingresso a un pranzo, il biglietto d'ingresso a una piccola consumazione, quello di abbinare il biglietto d'ingresso a delle visite al Museo Romanzi e Carducci piuttosto che alle Grotte del Trullo, quello di abbinare il biglietto a una visita con le audioguide, anche con la possibilità di poter avere facilità nel dialogare con turisti stranieri. Tutto questo, naturalmente, questo desiderio di migliorarci e di avere un'attenzione particolare ai nostri ospiti, poi ci ha dato il coraggio e la spinta di investire anche in un progetto nuovo, che è quello di Fondazione Lab. Uno spazio interamente dedicato dove durante la settimana c'è una serie di piccoli eventi, ma c'era anche dove è stato di supporto alla biglietteria lì, piazzale Aldomoro, ma dove soprattutto abbiamo potuto mettere in mostra, forse per la prima volta, un merchandise dedicato e filmato Fondazione Carnevale di Putignano. Dagli stessi tavoli è data l'idea, naturalmente, di affidare la gestione dello spazio dedicato estremamente abili a un'associazione specializzata, Abil Festa. Questo, naturalmente, ci ha consentito di avere un marchio registrato, appunto, Abil Festa, dell'ente del Carnevale Putignano. L'altra cosa importante è stata, naturalmente, quella di alzare un po' il livello dei nostri partner, quindi anche la gestione dei parcheggi. Abbiamo cercato una start-up nazionale molto importante che è abituata ai grandi eventi, gestisce la notte della Taranta, gestisce alcune tappe del moto mondiale, del GP, ma soprattutto è partner di SPA importanti o di società importanti come la C-Milan o le FC internazionali. E in questa logica di alzare il tiro e di avere una maggiore attenzione ai servizi accessori, ci ha portato anche un attimino a rileggere i rapporti con i nostri partner, ma ve ne spiegherà meglio il direttore commerciale in uno degli interventi che seguiranno il mio. In modo particolare, la chiave è stata quella, naturalmente, di spostare l'attenzione dalla vendita dello spazio a creare delle partnership a vari livelli. La stessa cosa, naturalmente, è stata per il gruppo del programma. Nonostante le difficoltà di budget, le indicazioni che hanno seguito tutti i professionisti che sono occupati esattamente di questo argomento era quella, naturalmente, di provare ad individuare spettacoli diversi per target differenti. Ancora una volta una ovvietà, ma l'altra cosa fondamentale era stata quella di provare a coinvolgere quanto più possibili gli attori locali. E mi riferisco, naturalmente, alle tante associazioni culturali putiniano che io non smetterò mai di ringraziare. Non smetterò mai di ringraziare, naturalmente, le associazioni dei maestri cartapestai, comprese quelle che quest'anno si sono cementate in questa nuova idea delle istituzioni artistiche, di ringraziare i gruppi mascherati, i ragazzi che realizzano le maschere di carattere, che ogni anno fanno tantissimi sacrifici per essere vicini alla fondazione. Così come tutte le associazioni culturali che abbiamo contattate e che si sono rese disponibili senza battere il consiglio, nonostante naturalmente le risorse messe a disposizione dall'ente non fossero esattamente, come devo dire, adeguate all'espressione artistica che loro avrebbero prodotto. Tutto questo, naturalmente, doveva essere tradotto poi in un progetto di comunicazione. Anche lì la visione strategica c'è stata di aiuto nelle scelte. Siamo partiti da due elementi fondamentali per caratterizzare il nostro carnevale, che rappresentano naturalmente dal nostro punto di vista l'identità del carnevale di Putignano, ed esattamente Farinella e i carallegogi. Per poi passare naturalmente all'intero comparto, dove una serie di professionisti, ognuno per le proprie competenze, si è preoccupato di non tanto di vendere l'evento, quanto di dare valore al brand carnevale di Putignano. Gli approfondimenti di quanto vi ho sommariamente raccontato, li potete ascoltare adesso nei prossimi interventi, che saranno coordinati dal consigliere Alessio Casulli, che in un vero e proprio format che abbiamo immaginato, quasi un format, dicevo appunto, radiofronico, interesserà dando voce ai vari attori che hanno possibile questa nostra prima esperienza di governo dell'ente. Un evento come il carnevale di Putignano, lo sapete benissimo, ha bisogno di un grandissimo lavoro di squadra, ed è questo il motivo per cui noi abbiamo pensato di raccontarlo in una maniera corale. Quindi adesso non mi lascio che salutarvi e passare la parola ad Alessio. Alessio, a te l'onere di continuare questo racconto. Grazie Maurizio. Allora, nonostante tutte le restrizioni alle quali siamo costretti in questo periodo, abbiamo pensato nel consiglio di amministrazione della Fondazione del Carnevale che fosse giusto comunque restare in contatto con la cittadinanza e con tutti gli amanti del Carnevale, impossibilitati come siamo a poter svolgere delle normali conferenze stampa alle quali eravamo abituati e alle quali speriamo di poter tornare presto. Lo facciamo in questa forma virtuale con degli appuntamenti periodici in modo da potervi aggiornare su eventuali novità future e nel frattempo per fare il punto sulla manifestazione che si è conclusa da poco, da qualche mese, analizzeremo un po' tutto quello che è stato l'ultimo Carnevale e lo faremo approfondendo alcuni temi in particolare. Ad esempio nella prossima clip parleremo di due aspetti in particolare, cioè marketing e comunicazione, due temi molto importanti per quanto riguarda la nostra manifestazione. Lo faremo con l'aiuto di Gianluca Trisolini che è il nostro direttore commerciale e di Rocco Trisolini, il capo di Rotora, l'agenzia che ha curato per conto del CDA della Fondazione tutto il discorso legato alla comunicazione. L'appuntamento è per sabato prossimo, 9 maggio, sempre ovviamente sulla pagina Facebook della Fondazione del Carnevale di Putignano. Un saluto a tutti. Grazie.